In attesa della Settimana Santa, il Comando Provinciale di Messina della Guardia di Finanza ha organizzato un incontro per celebrare il precetto pasquale presso il Santuario Maria Santissima del Tindari. L'invito è stato rivolto a tutti i reparti territoriali della città metropolitana di Messina e provincia con le rispettive famiglie, ma anche ai membri della sezione Anfi di Messina, Milazzo, Santa Cataminitello e Catania e ad alcuni reparti speciali delle Fiamme Gialle, come il Ganno, Gruppo Aereo Navale di Messina. La messa è stata ufficiata dal cappellano militare capo Don Mario Reneri con la presenza del luogotenente Nolasco ed è stata accompagnata dal bel canto del coro della Cappella San Matteo di cui la Guardia di Finanza di Messina è particolarmente orgogliosa. A seguito della tradizionale preghiera del finanziere, il Comandante Provinciale, Colonnello Vincenzo Tomei, ha tenuto un discorso finale di ringraziamento in vista della sua promozione a Generale di Brigata. Tomei ha salutato i presenti prima di essere destinato a nuova sede, ricordando l'importanza del noi e del lavoro di squadra che da sempre caratterizza il servizio offerto allo Stato dalle Fiamme Gialle.